Per i giovani e donne noi proponiamo di abbattere la parità di reddito realizzato e di lavoro offerto la pressione fiscale sul reddito e quella contributiva sul lavoro, cominciando da loro. So che significa spezzare un tabù a cui il sindacato e la sinistra sono molto, e anche giustamente, fedeli, cioè che siamo tutti uguali, ma nell'Italia di oggi non è vero che siamo tutti uguali. Quindi noi veniamo tacciati di essere liberisti, ma diciamo cominciamo da chi ha minore anzianità contributiva per incentivare le imprese ad assumere loro, con questo, non con la riforma Fornero, e mettendo più reddito disponibile nelle loro tasche che oggi non ce l'hanno. Quindi a me sembra una proposta concreta. Mi rendo conto, per la sinistra significa superare un'impostazione più che secolare, e che io comprendo, difendo, però ripeto, nell'Italia di oggi dire siamo tutti uguali è una colossale bada.